Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui e vi faccio vedere questo nuovo numero di Titanic, la nave, la leggenda, numero 84 andiamo ad aprire questo nuovo fascicolo insieme, andiamo a togliere la plastica e andiamo a vedere come prima cosa il fascicolo Titanic, la nave, la leggenda, numero 84 nel prossimo numero avremo la sezione serie della carena, sinistra e viti, shopping e balaglio, la moda e il lusso risalgono a bordo di varie informazioni da leggere, viti da bordo, una fotografia, lusbitton artigiano innovatore, varie pubblicità di lusbitton dell'epoca e queste volte andremo a fare le pareti delle switch eccole qua, con le finestre parete switch di sinistra, parete switch di destra, striscia led, cavo led, connettori, finestre e viti AP eccole qua cosa andremo a montare in questo nuovo numero ok eccoci tornati adesso andiamo ad aprire il pacchetto che abbiamo ricevuto in questo numero 84 e vediamo che abbiamo ricevuto un nuovo cavo una nuova stris barra led eccola qua delle viti delle viti si è elevato il numero vabbè andremo a vedere poi nel fascicolo poi abbiamo ricevuto delle finestre eccole qua queste nuove finestre poi in questa busta abbiamo ricevuto i connettori eccole qua e poi qui abbiamo ricevuto questi due dettagli dove andremo a mettere le finestre una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette da qua e quest'altra parte che sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette di questa parte sono a sinistra e a destra ragazzi adesso direi di iniziare a fare questo lavoro andiamo a prendere le istruzioni ragazzi e dobbiamo andare a mettere le prime sette finestre come possiamo vedere qui ciao